Potrebbe benissimo essere la scena di un film, fiamme, fumo, una decina di auto bruciate. E invece no, è successo a Milano, in via Barbavara, in zona Porta Genova, durante la notte tra mercoledì e giovedì. L'altra notte praticamente alle 5 del mattino una signora si accorta che aveva le fiamme in casa, ha chiamato i vigili, c'era un focolaio all'inizio della via con 4-5 macchine bruciate e un focolaio alla fine della via, per cui probabilmente è un piromane. In questa via non ci sono telecamere e per cui spesso i volettieri succedono atti anche vandalici, ruote, bucate, specchietti, rotti, calci nelle portiere, tutto questo sempre perché non c'è un controllo. Secondo alcune testimonianze il rogo deve aver avuto inizio intorno alle 5.30 del mattino, i primi ad accorgersi nei residenti ai primi piani del Civico 2, che svegliati dal forte odore di gomma bruciata che si stava diffondendo nella via, si sono subito affacciate alle finestre, da dove hanno visto alcune auto che stavano andando completamente a fuoco. Sono scesa alle 7.30 per andare a scuola, mi sono trovata i carabinieri e la polizia locale e mi sono vista queste macchine tutte bruciate. E' stata una scena brutta, un odore veramente pietoso, puzza di bruciato, benzina e bruttissimo. Dai racconti le fiamme erano talmente alte che raggiungevano addirittura le inferriate delle finestre. Poi poco dopo lo stesso accade al Civico 6 dove altre macchine iniziano a bruciare. La mia macchina è bruciata e adesso devo premonirmi di un carroattrezzi perché il comune porterà la macchina in un deposito e se porterà la macchina in un deposito dovrò pagare oltre la spesa del carroattrezzi del deposito e per cui oltre alla beffa anche il danno. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Oggi è possibile ancora vedere i resti delle macchine mangiate dalle fiamme. Non è rimasto quasi nulla se non la carcassa di metallo delle vetture, alcuni vetri scoppiati durante la combustione e un forte odore di gomma bruciata che tuttora permane nella via. C'ero a casa che dormivo tranquilla e mi sono svegliata con un messaggio di mia sorella dove c'era scritto che le macchine avevano preso fuoco ma che la mia per fortuna che era proprio a fianco alle macchine che ha preso fuoco non ha preso fuoco anche lei quindi sono scesa subito a vedere e per fortuna non aveva nessun danno o niente. Ancora non è chiaro che cosa abbia scatenato le fiamme. Certo è che essendo il rogo partito in due punti diversi, in due momenti diversi l'ipotesi del cortocircuito sembra lasciare sempre più spazio a quella del lato doloso. Sul caso sono comunque in corso indagini da parte della polizia di Milano.